Anche questa mattina non è una mattina da ok 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 ci siamo perché ci siamo svegliati con una notizia che ha sconvolto un po' i mercati, soprattutto i mercati delle stablecoin. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Praticamente Circle USDC si sta andando a depeggare e lo vedete molto bene sulle chart, tra poco arriviamo anche lì. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che come sapete SVB che è stata una delle banche più importanti in America appunto irrigata al mondo della Silicon Valley e quindi degli investimenti innovativi ha dichiarato lo stop ai suoi servizi, alla sua operatività. Questo per garantire i depositi di quelli che sono i suoi correntisti e allo stesso modo per poter appunto bloccare quelle che sono investimenti andati male nel tempo. Questa cosa qua che cosa sta facendo? Sta generando un effetto a cascata perché? Perché tanti attori di mercato che hanno fermato, compreso anche Circle, quelle che hanno le attività attraverso appunto anche SVB, in realtà sono andati poi ad avere un problema. Ovvero tre ore fa Circle ha scritto che hanno iniziato appunto a fare un withdraw di fondi perché 3.3 billion di 40 billion, che parliamo di un 8% praticamente, delle sue riserve di liquidità sono in SVB. e stanno appunto, hanno avuto conferma che non è ancora stato processato il withdraw di fondi che hanno eseguito giovedì. Questo cosa significa? Significa che hanno dichiarato lo stop e probabilmente questi fondi non sono stati inviati, ok? Ad altre banche perché chiaramente sapete che queste tipologie di entità, soprattutto Circle, ma anche Tether, eccetera, lavorano con pisti tutti, non con uno unico e singolo. Quindi questa cosa qua chiaramente ha messo in stop quella che è la loro operatività, il loro stop di questo processo di fondi. Quello che si aspettano Circle, così come gli altri correntisti appunto da SVB, è quella di che intervenga, diciamo, la Federal Reserve o comunque il governo americano per far sì che non salti in aria, per evitare effetti domino su altri istituti, quindi che vengano a salvare SVB. Questa cosa qua ha creato panico, ok? Ha intervenuto anche uno del Dante di Sparta, che non spero chi fosse, ma è uno dei alti piani di Circle, che appunto è stato anche retweetato dicendo che Circle sta proteggendo USDC da un black swan nel sistema bancario statunitense, quindi stiamo parlando di una cosa più grossa secondo lui e che quindi serve che la Federal faccia un rescue plan. Quindi un piano di salvataggio. Tutto ciò è ovvio che si va a ripercuotere sul prezzo di USDC. In realtà tra i top gainers abbiamo dei gainers, più 13 di Quant, Bonn più 9, Osmosis più 10, Trust più 9, Solana più 7, Stack più 7. Tra i losers abbiamo USDC, lo vedete, con un DPEG abbastanza importante. E questo perché di base non si è generato un effetto panico su Bitcoin in questa fase o su Lealcoin, ma anzi sembrerebbe come che alcuni fondi andassero a ruotare all'interno, proprio per sfiducia nelle stablecoin, quindi che magari non vadano a riversarsi all-in su USDT, ma vadano a ridistribuirsi su alcuni progetti. Questo chiaramente è un fenomeno molto interessante, è un fenomeno che comunque ci fa intendere come il mercato può andare a lavorare su alcune situazioni e che quindi porta forse maggiore eccentricità a quella che è la narrativa appunto di Bitcoin, di Ethereum e di questo siamo anche contenti. L'unica cosa è vedere il comportamento di USDC, che in questo momento è estremamente irrazionale a mio parere, perché ok, 8% delle riserve sono state bloccate, chiamiamolo così, congelate, quindi il DPEG non può essere superiore a tale cifra, altrimenti si va in una condizione di ipervenduto a mio parere. Ma ripeto, non sono dei consigli di trading finanziari, bisogna capire se i dati che hanno fornito sono dati corretti o meno, se ci sono delle altre cose che mancano, quindi non possiamo fare due diligence con un tweet, chiaramente. Però, insomma, capite bene questa situazione qua. Quindi il mio consiglio, che non è un consiglio come sempre, ma un ragionamento che faccio con voi è non andiamo estremamente in panico su quello che sappiamo oggi, ok? Su quello che sappiamo oggi. È chiaro che in avanti un potenziale effetto contagio potrebbe esserci, però in questo momento dobbiamo stare su quello che abbiamo in mano, ok? Quello che abbiamo in mano è un circa 8% di riserve bloccate in SVB, che non è detto che vadano perse, magari, insomma, possono essere comunque sistemate in qualche modo. Non lo sappiamo, ok? Stiamo prevedendo il futuro, ok? Senza documenti. Però diciamo che con questi dati alla mano sembrerebbe in oversold, sembrerebbe, ok? Potrebbe continuare a depegare perché il mercato, lo sappiamo, è irrazionale. Quindi non tiene in considerazione alla perfezione tutto ciò di cui siamo a conoscenza, ma tende a sovrastimare a volte alcune situazioni. Quindi, mi fermo perché non volevo aggiungervi altro. Oggi era un update proprio su questa situazione qua. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci aggiorniamo presto con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!